Ci troviamo a Catania, negli uffici di Criashondoso. Qui Peppe, testa del design, si occupa di mandare avanti il reparto. Per il design sono importantissime le materie prime. Infatti, scegliamo solo PNG a chilometro zero. Insieme a Marta, giovane designer, dal cuore docile. Il nostro font più utilizzato è il Taoma, fatto a mano ovviamente. Però anche il miglior sogno può trasformarsi in un incubo. Non capisci nulla, Marta. Non è un genetto? Ma c'è un po' solito, non devi vedere come si fa l'opinione. Ma finalmente, Chef Andrea. Si vede che qui la creatività non si dosa. E' un ricaduto solo generale che sa. E' un ricaduto con te. Vittima con te. Vittima con te. Vittima con te. Vittima con te. La c***a è questa forza. Impresentabile. Litigate. Pianti. Non so come risolvere, sinceramente mi trovo un po' in difficoltà. Tutto questo è Uffici da Incubo.